bene ragazzi oggi nuovo video di un album speciale ragazzi che in italia non si trova si trova un po' come le sue figurine di terra ovviamente eccolo qua stranger things ragazzi versione inglese perché in italia non si sa come mai non c'è upside down il retro ora ve lo faremo vedere sfogliandolo sei pronto eccolo ragazzi facciamo vedere la copertina con un bellissimo background cuscino di stranger things ragazzi fate vedere il retro non c'è il prezzo guardate che bello ragazzi della panini ok iniziamo a sfogliarlo ovviamente vuoto abbiamo appena preso nel prossimo video è accogliamo un po di figurino all'interno abbiamo le migliori immagini diciamo della stagione 1 alla 3 e alcune anticipazioni dalla stagione 4 anche se la taggia uscita e poi c'è tutta la storia si inizia in inglese il laboratorio di hawkins indiana 1980 faccio un bel posterino con quattro figurine e iniziamo iniziamo tutto inizia qui welcome to hawkins benvenuti ad hawkins ora chiedete dustin in bicicletta molto bello scritto ovviamente in inglese è bello qui will e 11 le frasi corri corri diamo gorgone diamo gorgone ecco qua guardate qua vediamo se riuscite a trovare un siamo un problema diciamo siamo nel sotto sopra ragazzi per attaccare queste figurine guardate cosa bisogna fare dovremmo girarremo girare l'album e infatti possiamo leggere i margini c'è scritto da upside down quindi sotto sopra e qua abbiamo le figurine vedete potremmo giriamo in attacco da mito così scusate abbiamo in avanti dobbiamo rigirare allora qua siamo alla stagione 2 vedete max che fa il suo e troverete anche qualche stagione siamo un nato solo lì stagione sono scritte in basso a destra e in basso a sinistra snowball un'altra pagina di appagina sotto sopra giriamo vediamo così potete vedere l'immagine centralmente in background vedete sai quali saranno le figurine rosse saranno magari qualche speciale qualche scopreremo nei prossimi video ragazzi per l'antinata lo rigiriamo no sono tratti indietro siamo tratti indietro siamo nel sotto sopra anche noi ragazzi ora è giusto ora è giusto sempre stagione 3 3 questa c'è robbie anche qua anche un po di storia qui vai giulio zoom un po la storia che stessero vogliono leggere loro non vogliamo scollerare per gente che non l'ha vista dei ragazzi ok non raccontiamo la storia ecco qua siamo sui nomi dei prodotti protagonisti sempre stagione 3 non c'erano di ciliegie 3 ecco qua un'altra pagina di app salita ragazzi ora è quale ombre tali sotto molto bello ora bella anche materiali cui è fatto non è la classica carta ma è il classificato rigiriamo rigiriamo e andiamo avanti stagione 4 anticipazione della stagione 4 che è stata già uscita è stata trasmessa bentornati a hawkins siamo nell 86 vedete come è cresciuto tasti giriamo questo che si fa le canne ragazzi per chi non l'ha visto guardate vi fate un paio di risate rigiriamo questo è uno dei protagonisti ragazzi dell'ultima stagione ed è un grande non diciamo cosa va come va a finire cacciatori del demo galgone qua abbiamo ragazzi per chi non ha vista la serie dovete assolutamente vederla proseguiamo disponibile su netflix andiamo l'ultima pagina questo è uno dei cattivi ragazzi dell'ultima stagione vi diciamo il nome vecchia questo è l'album cioè tra delle delle figure dell'asso nato sono 168 ora che bello questa immagine qua bellissimo potete sentire anche un po dal rumore che fa il materiale giriamo abbiamo visto prima classificato molto bello molto molto dettagliato guardate come riflette la luce bellissimo allora ragazzi e dawkins è tutto questo è l'album spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like si vede vi commentate sui social e da nick e giù è tutto bella ciao ragazzi grazie